Musica Ultimo passaggio prima di andare a letto Morata la favola Sulla questione Icardi-Lucaco Che ha detto il grande presidente? Icardi-Lucaco Fai trovare nel centro avanti Non c'entra avanti l'Europa Non c'entra avanti Chi l'ha detto questo? L'ha detto Massimo Morata Che sta avvocato mille miliardi E quindi E le capisce pure la palla Non credo che il presidente Che ha piaciuto Ronald Piaggiu ti mostra E tu San Maria Santissima Goretta E poi può venire? Poi può venire Non può scaccare anche la mazza a cuore Ma ciao Cappello Questa è la finicciura Buona, amai Quindi mostro a posto Questa è il padre Lucaco Ma chi c'è? Io che stiamo a me Si è fatto un bel contropiede Andrà dentro all'altra E tira E tira Ma se arrivate qua Non c'è nessuno di scrittura E quindi Mi chiedete la palla Sì Stava Franco tu sei un professore Io sono un alunno Voglio fare l'alunno Che io potrei fare Non capisci niente La difesa a tre Cosa consiglio? Facetemi capire Cosa? Qualc'è la tua? Fammi capire Che scienziate? Franco è stato il re della difesa Quindi No Fammi capire Che scienziate? Fammi le conoscere a me Fammi la testa La difesa a tre La difesa a tre La difesa a tre Piegli le pallotti Piegli sempre le gole Secondo me Però Non lo so Poi dipende dal lavoro Degli esterni che c'ha Tra La difesa a tre Può diventare Senta Capito Non ho la tre Ma pure lì Io ti vedo Da quando Con l'uscire Vedi conto Ti sei messo a tre Che il tuo panano Che va a diesel Ma chi è? Dove l'uscire a diesel Prima Ma è che ti parla Anche la caccia Ti parla anche una cucina Ma allora Vedi le patate Ma pensate che siete Cavetti Iucani Ma io La parte Sono un'altra roba Un'altra materna Un'altra roba Ma che fai? A tre Ma a tre A tre Tutti i terzi Che cammini come rueda E con uno c'entra Ancora i peggi Adesso non avverrà Si è tre Trento un tenito No cazzo Piede con la tutta Appena tu me l'attacca Andambo Ma ora L'esterno è forte No l'esterno è forte 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 Difficile da giudicare È proprio un difensore La mette tirante Oggi Oggi Siamo capito Nell'Abbicizioni Trecenti milioni di euro Non sessanta Trecenti Ti ha raggiunto Tu la fai Gli scapponati No anzi Ti dirai cosa Dopo che tu hai fatto Quell'intervista Tre giorni dopo Dotto Su Ma cosa l'ha detto Le stesse cose Di a dietro Le stesse cose No Ma me ne vengono a mettere Che cazzo Che cazzo Ha fatto una cosa Riccardo Ha fatto 10 gole In queste tre partite In mezzo Alla Parisi E la parte Quarta La doppia Perché Se io che è salita Non facessi Sette gole No Mi hanno detto Non è un po' Fai lì E' Non mi posso Ti dico io Luca Che è solo La forza La forza La forza La forza Se ti acciclare In velocità Ti sei meglio Ma se ci sono 80 piccani Tu per tutti Ti devi sbattere Un bacio Ma non girare La piccina Che cazzo Non so Ma te Ma te Ma te Poi uno Dei pescarlo Ma io Dei pescarlo Lui Che sta Luca A fallaggiare Che gli dei pescarlo Ma te Ti ha Ben E non 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 Me la Non Vengono Non ce l'ha La piccina C'ha La forza Quinti si Anni No Il gioco Ha fatto 240 gol Il capo Una palla Che le viene Mocchia Dove La palla Se le stocchi Le vanno Tu Un'accomanismo Perché Perché Bacchia No Sì Un bacio Avevano Le 92 93 Perché Caragna Non esiste Però I caracondi Fanno Anche Qui Vedi Come Pia Petagna Ma Che c'ha La palla Petagna Un po' Squacciato Perché La pazzacca La pazzacca Sfacca La lena Eh Sfacca La lena No Perché La palla Sostituta Con Luca Deo Stessi Fisica Pia Petagna Può Sostituire Luca La palla La palla Non è Come E' La palla Non è La palla Vuole Petagna Io La palla Petagna Non voglio Capaccio Quello Quello dell'Indra Abbiamo Cusso Conta Reali La richiesta Cusso La Cilista La Cuccio Tra Conta Che C'è 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 Che Ci C'è 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 ma le rizzi? ma le rizzi stanno appennendo le rizzi le rizzi stanno rotte le mani le rizzi il sangue, mi trovo la piazza cosa ci faccio la rizzi e ti viste, come vuoi? come vuoi? come vuoi? il sangue questo canile a giocare a giocare a giocare ah, Damir, guarda questo ce ne so piante ce ne so piante straordinaria partita del numero 9 da nove facendo mamma mia mi chiuso proprio il sanguignare doppio passo attacco rizzo allora, buongiorno innanzitutto e buon Natale a tutti i tupamaros i tupamaros senti, cappelli eh, è solo un live ma cominci a fare no, non è un mezzo aspira siccome mi stanno levando la vita sono venuto in mezzo e faccio un minuto? no, tre minuti perché siamo a Natale quindi mi devi dare l'autonomia dall'assessore allo sport di dare un minuto in più ok il presente ci consente questo detto questo mi stanno levando la vita perché dopo che tu hai fatto il video su Lukaku con un stop gentilmente mi dicono ma scusa cappellino capiscitore quello che l'altro è mi dici la tua mi ha fatto uscire la coppa proprio di questo un signorino dalla coppa a quale? dalla coppa di campioni riuscite per questo ma ogni due volte entra la porta grazie che è riuscita per me cappellino stai sempre avanti perché sei onesto è solo un ma anche la Fiorentina in altri due punti l'ha vittata di questa aveva dato un metro dalla porta e ha fatto le cose potete pensare le cose che non servono che ci fai? ci vuole le cose quelle che ti fanno vincere la partita non le cose che tu finis la squadra e ti fai così? quattro cose le cose le cose le cose le cose le cose che ci fai più quindi tu ritieni che con la barcelona lui dovrà dare di più ma chi cazzo se lo mangiate dentro della porta se siete piaci doveva dentro la porta quant'è di più? e quando è la Fiorentina? la Fiorentina sta mangiando una volta il tuo petrolio che lo porta è se ci stiamo pure una neonata allora dicono come sei sportivo e capisci il pallone e sono lavorato pure alla mè e sei lavorato in materia quelli che dicono che Lukaku ha fatto tante cose anche chi? quelle espettioni che ci attegno rischi e ti ritieni che che l'ha fatto seriore, che che l'ha fatto queste golle dei Cesari, fa tutte le golle, mi sta segnare contro la Juarez, contro la Alessia, contro la squadra furta. Cappelli, ti posso fare gli auguri, professore? Ma auguri, eh. Auguri di buon Natale a tutti? E a tutti i Tupamaros. E i capiscitori? No, i capiscitori proprio, è meglio le barbabietole da zucca, i capiscitori non la fa niente. Un abbraccio. Capiscitori zero, proprio. Auguri di buon Natale, un abbraccio, vogliamoci bene. Eh, bravo, questo manderà a tutti noi capiscitori, i filosofi, che ce ne sono parecchi. Filosofi di Tartiera, i leoni di Tartiera. Ma gli ha detto questa che è, ma chi fai a quello? Ma gli ha levato la vita a quello, gli ha detto, perché ti sei, il caporato? Ma gli ha detto, però lo tappacchino, per l'anno, ma gli ha trovato l'upperro e poi non ci vengono più l'upperro. Un abbraccio, capo, un abbraccio di buon Natale a te famiglia. Ciao caro, auguri, capo lì. Tanti auguri, beh. Ciao caro. Ciao caro. Ciao caro.